Ecco, prova tecnica del Terminator Pulsanter, Metal Detector da profondità. I settaggi abbiamo messo sensibilità al massimo a 9, soglia del suono sul 6,5-7, praticamente poco prima che fa segnale, power al 9, al massimo. Guardiamo con un elmetto, questo è già più di un metro abbondante. Se aumentiamo un po' la soglia del suono, naturalmente va regolato in soglia. E la profondità di rilevazione aumenta. Se io abbasso la sensibilità di metà circa, riprovo. Guarda quanto tira, però tira di meno rispetto alla sensibilità che abbiamo regolato prima che era al massimo. Prova tecnica, Terminator Pulsanter.